Ci vediamo qua dopo un anno e ricordo perfettamente che quel discorso dell'anno scorso chiedo scusa per il gioco di parole, era davvero carico, come è carico questo, di passione eppure di dolore Dolore che non dobbiamo mai dimenticare perché credo che quello sta segnando questa strada e credo che con quello vinceremo Di quello che ci siamo detti l'anno scorso io veramente ho da fare i complimenti a Franco e a tutta l'associazione perché quello che è stato detto, quello è stato fatto, non si è ascoltato nessuno dall'alto, i partiti stanno fuori la visione è lontana, si è scelto un destino per questa terra che si condivide insieme a questa terra si ascolta, ci si confronta e non hanno mollato un giorno perché sto pure nel gruppo e basta ed è così emozionante e bello sapere che ci stanno queste persone nelle conferenze dei servizi a me mi si apre il cuore a leggerlo perché tra tutti quei funzionari è chi è corrotto in un modo è chi ha un interesse, è chi una cosa, è chi l'altro, sentire che c'è qualcuno pulito che contesta con dati reali, scientifici e seri, quelle loro stupidaggini perché poi loro mascherano la necessità di un interesse attraverso le parole dotte, però nei fatti, nella concretezza sono false se dire che c'è chi li contesta e chi scientificamente li sta facendo indietreggiare è uno degli orgogli più belli che sto ricevendo in questo periodo e sto leggendo in questo periodo quindi io vi dico solamente grazie, le domande, non ho domande, anzi voi di qualsiasi cosa avete bisogno per quello che noi possiamo ci saremo, grazie a voi grazie